Musica Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Everybody Go, tell, and roadie 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 Oddio No, ste bestie qua Queste sono le brutte bestie Non mi piacciono Guarda cosa ne ho fatto Mamma mia quante Ok, sembra una sorta di lanciafiamme Qual posto ragazzi ce lo ricordiamo benissimo Lei di sopra non salire No dai Cioè io sono Allergico a ste cose qui Psicologicamente Mi fanno schifo La vai di corsa Oddio Oh Mi è andata bene Mappa vecchia casa Vecchia casa Questa è la vecchia Sarà ospiti Sogiorno Entrata E qui Ah Qui conosciamo il posto Non ci sono abbastanza Slot E questo è il brutto del fluido chimico Insomma Che non Insomma ti riempie diversamente lo spazio Facciamoci Salute e munizioni Facciamoci la salute va Impugnatura Impugnatura bruciatore Cosa c'è lì? C'è uno zaino? E c'è anche il checkpoint Ottimo Eh Questo mi piace Questo sì che mi piace Eccolo Impugnatura ragazzi Bruciatore Adesso le cose si fanno Diverse Combina E non possiamo ancora Attualmente non possiamo Farci Niente Cerco il siero Cerco il siero Nella vecchia casa Il siero Cosa cavolo Il siero Un'altra vecchia casa How fan A A A A A Yeah 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 Questo è Kifo. Mamma mia. Combustibile solido. C'è nessuno? Si può? Sì. Contiamo il rimandello. E si apre. Ottimo. Sanzione medica. Qui c'è il peggio. Qui ci sono i ranietti. E non possiamo farci niente adesso. Queste bestie qui. Mamma mia. Mamma mia. Quei brividi mi fanno. Madonna. Che è uno schifo. Di cosa? Ok. Bene. Ok. Erba. 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 Beccuccio bruciatore. Eh. Qui. No ma. La situazione. Mi piace. Vediamo adesso se si può fare qualcosa. Ok. 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 Perfetto. Ok. Ragazzi. Ci abbiamo. Ufficialmente. Il bruciatore. Ci abbiamo. E adesso voglio vedervi. Anzi. Lasciamoli stare perché tanto fa non ci serve andare adesso da. Ne andiamo di fretta. Ne andiamo di fretta. Oddio. Ma che cazzo era. Ma come? Allora. Opp. 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 Non ci sono più. Fluido chimico forte. E fluido chimico. Ragazzi. Bello no? E qui adesso ci sarà. Ok. Ok. Perfetto è finita qua eh. Ok. Adesso è finita. La prima è andata. Mi sanno proprio andarci duro eh. Ok. Ok. Uh. Qui c'è qualcosa eh. Ragazzi. Qua si va eh. Ok. Adesso effettivamente non ci sono più. E mi fa molto piacere ecco. Insomma. Ok. Moneta antica. Moneta antica. Oddio. Oh. Ethan. Ethan. Ehi. Dacci un taglio mia. Voglio delle risposte. Lo so. Lo so. È vero. Vorrei dirti tutto quanto ma. Ma io. Ricordo solo qualche frammento. Il resto è sparito. Papà. Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Su. Fa qualcosa. Non stare l'imparato. Mi dà l'aiuto. Mi dà l'aiuto. Merda. Mi dà l'aiuto. Insomma. Eh. Ok. Ecco la struttura di pietra ragazzi. La struttura. Di pietra. Allora. Vita. Statuetta di pietra. E. E direi anche. Di andarmene. Sì. È giusto. Giusto. Facci via. Ma tanto io. C'ho l'incendiatore. E. Via. Guarda. Ecco. Ma è la madre ragazzi. Ok. Facciamo sta roba. Facciamo il ranio. Il ragnetto. Come si fa. Eh. Ok. Ok. Very good. Very good. Andiamocene. Qui c'è stata mia ragazzi. Cazzo. 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 Cristo Santo. Cazzo. Ok. Vita a metà. Cazzo. Cazzo. Il ruido chimico. Apriamo la porta. Ragazzi. Qua. No. Non ci entra. però hai portato di nuovo infusione al piano di sopra credi che non me ne sarei accorta anche dopo quello che si sarebbe nì, ho dovuto pensare di quella sana medicina, cosa che ti fanno mio ammattare, tieni a raro con le due dita a piccicola, non tocco il mio sacro, dopo hai dei geniotti per la mia ragazza, ma l'impero da me è patetica, boh insomma mamma mia la madre si qui c'è qualcosa, no stivali psicostimolanti qui c'è un fluido chimico c'è questo qua allora c'è un fluido chimico qui combiniamone uno per facciamoci, facciamoci allora visto che ma scortiamoci cinque proiettili eh lo spazio è quello che è te ci vai di colpo eh ok bene mamma mia mamma mia andiamo alla madre lei è qui ho capito, ho capito, ho capito è difficile è è è è è è è è è non è andata bene chiave corno moneta antica non c'è altro da fare ok chiave corno adesso bisogna tornare a cibi e sani adesso ragazzi ci abbiamo la chiave ragazzi mamma mia che spavento e adesso perché non ce ne sei morto questo è quello che ti merito per avere picchia da dare dove credi di andare non è cascata ragazzi ok ok speriamo che è andata ok via libera adesso ok oh molto carino qui ecco mi piace insomma ma che oddio cos'è forse ci siamo allora hai trovato il fiero ho appena sistemato tua madre i suoi cazzo di insenti era meglio avvisarmi mi dispiace tanto ma per il fiero non l'ho trovato ma so cosa serve per crearlo una testa di serie D e un braccio siamo sicuri una testa dovrei averla da qualche parte davvero ma per il brazzo non ho idea hai cercato dappertutto no non ancora devo controllare il piano di sopra ok prova lì se c'è vieni alla roulotte e noi ci dovremmo fermare qui ragazzi non sono più sicuro che non sono riuscito ancora a me da quando quella recensione sono ancora con Zoe c'è una decisione in quella picco così in quella donna che era con lei vedo cosa sento rumore la nausea con un passo sono andato al redattore mi hanno fatto una radiografia cosa mi sta succedendo picco mi ha fatto un duono sono andato a due nella stanza seguirete in fondo al piano e sopra dove nessuno la troverà mai quel braccio simboleggia la fiducia della piccola quel braccio ci conduva la fiducia della stessa e poi non parla con poi guarda che non lascia da vivere oh bene e qui ci sarà ci servirà un'altra bilancia insomma dove c'è questo checkpoint di merda non c'è oddio eh non è morta è ancora viva ragazzi è ancora viva ma noi adesso andiamo a salvare ok ragazzi noi salviamo qua io io vado perché insomma sono già le mezza volta e mezza ragazzi noi ci finiamo qui con Resin 2.7 grazie per il supporto per la visione ci vediamo al prossimo video bella grazie per la visione